La Giunta Comunale di Trieste ha dato il via libera definitivo al programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, prevedendo importanti interventi migliorativi a beneficio delle strutture e delle condizioni di vita del grande complesso Ater di Rozzol-Melara, in un quadro ampio che comprende anche le estensioni funzionali alle case di riposo comunali del centro per l'anziano di via Marchesetti alla Villa Revoltella. I contenuti dell'articolato progetto che punta così ad ottenere i consistenti contributi previsti da un recentissimo bando governativo nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie sono stati valutati, approfonditi e condivisi con gli abitanti della zona. Già ad inizio agosto la Giunta di Piazza aveva svolto uno specifico sopralluogo incontro sul posto, evitando di calare progetti dall'alto e per cercare di rispondere meglio a reali specifiche necessità di chi vive d'opera sul territorio. La delibera approvata, che contiene tutte le relazioni e documentazioni del cronoprogramma degli interventi, consente così di partecipare al bando e puntare ai quasi 18 milioni di finanziamenti previsti, 6.7 milioni di euro per interventi comunale, oltre 11 milioni per interventi Ater e 125 mila euro per interventi Acia e Gas, APS e AMGA. Le tipologie degli interventi anch'esse in linea a quanto previsto e richiesto dal bando nazionale vanno ad azioni per il miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano ai progetti di manutenzione e per il riuso di rifunzionalizzazione delle aree e strutture edilizie esistenti, all'adeguamento delle infrastrutture stradali e delle loro connessioni verso l'esterno, agli interventi di risanamento ambientale e di riqualificazione energetica fino a quelli per una maggior sicurezza complessiva della zona. L'obiettivo è quello di dare una spinta fondamentale a cercare di superare le diverse criticità di un complesso di edilizia economico popolare come il quadrilatero costruito alla fine degli anni 70 che ospita 650 alloggi con la presenza di circa 1200 abitanti. In particolare il programma elaborato dal comune per lo zonmelaro o meglio per l'insieme delle diverse progettazioni che lo compongono prevede una serie di interventi sulle parti comuni del quadrilatero sia interne che esterne. Tre punti fondamentali è la riqualificazione delle aree verdi esterne con la possibilità di crearvi aree ludico-ricreative e ciò anche grazie al recupero funzionale della grande autorimessa seminterrata già esistente ma attualmente non utilizzabile per carenze inerenti l'antincendio e la videosorveglianza. Videosorveglianza che è previsto si estenda anche alle passeggiate interne per aumentare la sicurezza degli abitanti, scoraggiare atti vandalici, parcheggi selvaggi e così via. Un altro significativo intervento è poi quello di recuperare gli ampi spazi abbondanti e sottoutilizzati che si ritrovano lungo i collegamenti principali del complesso edilizio anche rivitalizzando gli stessi mediante l'inserimento di un'attività culturale come una emoroteca, biblioteca di quartiere da insediare in uno spazio attualmente inutilizzato all'interno del collegamento centrale con circa 200 metri quadri disponibili su due livelli. Una struttura che potrà diventare un importante elemento di aggregazione sia per i residenti che per i frequentatori del vicino complesso scolastico. Un ulteriore capitolo del progetto generale prevede poi interventi di riqualificazione ambientale ed energetica degli edifici, un nuovo sistema che oltre al quadrilatero dovrebbe coinvolgere anche il complesso scolastico comunale di via Forlanini e in prospettiva anche le case di riposo di via Marchesetti. Inoltre tornando al quadrilatero ancora in chiave di risparmio energetico oltre all'impianto di climatizzazione prevista alla sostituzione completa dei serramenti per le passeggiate interne e parziale sugli alloggi. In particolare poi per il complesso scolastico viene previsto anche un intervento di consolidamento strutturale. In chiave di miglioramento dei servizi ambientali si provvederà inoltre a riqualificare e revisionare i punti di raccolta dei rifiuti urbani migliorando le 18 isole ecologiche presenti nell'area. Un'ulteriore e non trascurabile parte di interventi riguarderà il miglioramento dei collegamenti pedonali e delle infrastrutture viarie con l'obiettivo principale di mettere a sistema i servizi esistenti, le scuole, il ricreatorio, le case di riposo ma anche le aree verdi circostanti e lo stesso parco di Villa Revoltella collegandoli meglio a beneficio di una loro migliore fruizione a favore innanzitutto di mamme, anziani, giovani. Punto rilevante in tal senso sarà la sistemazione degli assi principali di scorrimento ovvero le vie Forlanini e Marchesetti che necessitano anche di un adeguamento dei marciapiedi e della creazione di attraversamenti pedonali protetti. Tra le auto opere previste l'installazione di nuovi impianti e levatori sul lato di Via Forlanini, la migliore riqualificazione e frequentazione dell'intero complesso con la rivitalizzazione dell'esistente anfiteatro di pietra, l'atteso ripristino del campo di bocce ed il rafforzamento complessivo dell'illuminazione.